Ciao bambini e bambini e benvenuti. La bambina che sta dormendo si chiama Bianca e shh, parliamo piano, non dobbiamo svegliarla. Bianca fa molta fatica ad addormentarsi perché ha paura del buio. Ma questa è una sera speciale. Bianca imparerà che la notte è come una coperta e che i sogni sono amici dei bambini. Bianca imparerà che la notte è come una coperta. Bianca imparerà che la notte è come una coperta. Grazie per la notte. Grazie a tutti.